ciao a tutti e benvenuti sul mio canale jessica a s m r allora da come avrete potuto notare dal titolo e dalla foto copertina oggi sono qui con un video un po particolare in realtà perché penso di non aver mai portato a questo trigger o comunque se l'ho portato in passato non è come quello che vi proporrò oggi perché vi giuro raga è magico spero appunto vi piaccia ovviamente fatemelo sapere sotto nei commenti come sempre prima di iniziare con il video vi ricordo che se volete farmi un regalino per sopportare il canale il canale il canale o magari anche in vista del mio compleanno che sarà il primo maggio il primo maggio vi lascio come sempre il link della mia wishlist di amazon qui sotto nell'info box e raga anche solo se siete curiosi andate a dare un'occhiata perché ci sono un sacco di oggettini straccherosi 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 ovviamente appunto come sempre io ad ogni persona che mi fa un regalino della wishlist ci faccio il video dedicati a su youtube che sull'altro social quindi non dimenticatevi il nome nel bigliettino perché molte volte mi è capitato appunto di ricevere i regali dalla wishlist senza però avere il nome o senza sapere da chi appunto arrivava il regalino l'oggettino in particolare che useremo oggi sono praticamente queste due che erano una protezione di un rossetto di un gloss che c'era all'interno ma vi giuro raga fanno un suono spettacolare l'oggettino in particolare l'oggettino in particolare l'oggettino in particolare l'oggettino immagini A presto. Sì, sì. spero non sentiate troppo rumore in sottofondo ma come potete vedere dal video non ho nessun filtro perché volevo si sentisse proprio il suono pulito senza appunto nessun tipo di filtro però ovviamente si sente pure tutto il resto quindi vero 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 per A presto! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Cioè ma vi rendete conto delle bestie che ci sono qui? Ma ripeto ogni volta direbbe essere un insulto verso gli animali raga ve lo giuro Ve lo giuro fatto sta che farei veramente una strage Non sopporto più nessuno Poi capite ogni volta poi vai sopra sotto di fianco Ok non sono mai loro non sono mai loro ovviamente No certo perché non ci sei tu sopra o sotto vero Non ci sei tu che fai casino no? Va bene Con il stesso orario che sia mattina pomeriggio sera notte Qua c'è sempre il circo Scusate ragazzi Io sto cercando di impegnarmi tantissimo appunto per il canale perché vi voglio un sacco bene Voglio dedicarmi praticamente e totalmente al canale e vi sto appunto registrando un sacco di video Un sacco di cose sto caricando tantissimo proprio perché voglio farvi vedere che ci sono Però questo comporta anche altra gente sopra sotto di fianco che fanno casino ininterrottamente Quindi questo purtroppo comporta anche il fatto che ci siano questi individui Non sopporti e niente ragazzi questo era il video io spero davvero che vi sia piaciuto questo trigger fatemelo sapere sotto nei commenti con un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video io vi mando tantissimi make-up bacioni vi auguro una buona una buona, una buona, una buona stupenda notte e ci vediamo alla prossima ok buonanotte 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 buonanotte